Allora, come si presenta il pubblico di Antena 2? Allora, mi chiamo Cinzia Locatelli, ho 38 anni, vivo a Cerete ovviamente, e per oltre 15 anni mi sono occupata dell'attività di mio marito, che ha a che fare con la ristorazione, poi all'inizio del 2014 ho avviato un laboratorio artigianale per la produzione di pasta fresca. Ho due figli e il mio ingresso nella vita sociale del paese è coinciso proprio con la loro nascita e la loro crescita. Per quanto riguarda la mia candidatura, ha avuto un'evoluzione decisamente rapida e inaspettata, ma nel momento in cui sono stata contattata da alcuni dei miei compagni di viaggio di Cerete Futura, ho condiviso da subito gli obiettivi e le finalità che insomma si volevano perseguire, per cui le ho fatte un po' mie. Poi quando è stato deciso sono stati definiti vari ruoli, è stato fatto il mio nome, ho riflettuto molto, ma alla fine sono orgogliosa di rappresentarli, perché è un gruppo che veramente merita. E a proposito della squadra? La squadra, Dunque Cerete Futura, è una lista civica, composta da una serie di persone che vengono da esperienze di vita completamente diverse l'una dall'altra e questo fa sì che le nostre competenze siano molto varie, per cui abbiamo dal funzionario di banca al pensionato, a chi ha a che fare col commercio come me, insomma architetto, geometra, avvocato, c'è un po' di tutto in questo gruppo. Sono tutte persone molto dinamiche, determinate e propositive, assolutamente convinte di voler portare avanti in modo attivo la partecipazione alla realtà amministrativa della nostra Cerete. E il programma invece? Il programma ovviamente tocca un'infinità di argomenti. Diciamo che è quello un pochino più importante, è legato alla fusione. Gran parte probabilmente della vita amministrativa, della prossima amministrazione, andrà proprio dedicata a questo punto. Noi riteniamo che non si possa proprio più fare a meno di accedere a questa fusione, anche perché Cerete da questo passo potrà avere molti benefici a livello di contributi, miglioramento dei servizi, risparmi economici e quindi riteniamo sia giusto muoverci in questa direzione. Puntiamo molto sul miglioramento dei rapporti tra amministrazione e cittadini, cercando di comunicare in modo chiaro e trasparente senza pilotare le informazioni fornite. Ovviamente cenni alle opere pubbliche piuttosto che all'urbanizzazione. Non abbiamo proposto grandi cose, grandi progetti faraonici perché non riusciremo comunque a realizzarli, quindi è inutile sprecare energie, ma di sicuro si riuscirà a fare qualcosa di buono per il Paese. Un occhio all'ambiente, ovviamente non ci dimentichiamo delle politiche sociali, e speriamo di riuscire a creare un'amministrazione condivisa, cioè una serie di gruppi di lavoro ai quali vorremmo partecipassero proprio i cittadini di Cerete in modo attivo.